PEGI 7 I gettoni extra power Disney Infinity sono compatibili con Disney Infinity 2.0, così come la scatola dei giochi Disney Infinity e gli altri contenuti salvati. Ma ora potrai incrementare le tue precedenti creazioni con nuove caratteristiche 2.0. Dolce Natale! Stabilisci l'inizio e la fine delle tue partite e ricordati chi vince. Usa lo strumento creatore per costruire un'incredibile avventura con livelli multipli. E se non te la senti di costruire, nel tuo Starter Pack ci sono due gettoni di gioco della scatola dei giochi, che contengono una partita predefinita che potrai iniziare subito. Scegli uno degli oggetti predefiniti come punto di partenza per le tue creazioni. Piste, rotaie, edifici, terreni e altro. Aggiungi temi alla tua scatola dei giochi esistente. Libera una squadra di costruttori nel tuo mondo. Ascolta i suggerimenti o la guida passo per passo dei tutor di gioco. Questo è il generatore di nemici. D'accordo, d'accordo, portalo dentro. Ora puoi creare interni e costruire una casa, una caverna degli eroi, un centro di comando o qualsiasi cosa riesci a immaginare. Oltre alle sfide della scatola dei giochi, ora puoi condividere più facilmente le tue creazioni con gli amici connessi. Puoi condividere le tue partite giocando a doppio schermo oppure online. E questo è solo l'inizio. La scatola dei giochi Disney Infinity cresce continuamente. E con la versione 2.0 il potere di perfezionare le tue creazioni e divertirti è praticamente infinito. Personaggi e contenuti extra venduti separatamente.